Ciao, sono Stefania Pirozzi, campionessa italiana di nuoto. Ho partecipato a due olimpiadi mondiali ed europei. Mi sono trasferita da poco a Trieste e come ogni atleta soffro di mal di spalla o qualche dolore qua e là. Sono stata consigliata da vari atleti di venire da Physiosan, dove ho trovato un team molto disponibile e preparato che mi segue tutt'oggi e mi permette di preparare i miei prossimi appuntamenti al meglio. Soffro di una stabilità anteriore e posteriore alla spalla da un po' di anni e grazie a loro tramite terapie e trattamenti riesco ad allenarmi al meglio gestendo gli allenamenti. Quindi se avete un problema rivolgetevi allo staff di Physiosan che vi seguiranno al meglio. Ciao! Grazie a tutti